Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La famosa attrice è morta, nel corso della sua carriera ha conquistato due premi Oscar. Ecco di chi si tratta il mondo del cinema in lutto per la scomparsa di una nota attrice che ha imperversato sulle scene soprattutto negli anni 70. La donna è morta dopo una breve malattia all'età di 87 anni. L'attrice ha vinto anche due premi Oscar, e quanto riporta il sito Rolling Stone. Il nome dell'attrice scomparsa è Gwenda Jackson, tra le più famose e i premiati attrici inglesi. I due premi Oscar Gwenda Jackson ha vinto l'Oscar di migliore attrice nel film del 1969 Donne in amore di Ken Russell. E' stata protagonista del film Un tocco di classe del 1973 diretto da Melvin Frank che le ha valso il suo secondo Oscar, sempre come migliore attrice. La cosa particolare è che Glenda non sia presentata a nessuna delle due cerimonie di premiazione.